Ciao stelline e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi il video è un po' diverso dal solito, infatti in questo video sarà Camillo a decidere come svolgeremo la nostra giornata. Ora capirete come. Praticamente abbiamo preparato dei fogliettini in cui metteremo sopra dei croccandini, quindi lui avrà delle scelte che influenzeranno la nostra giornata e in base a quella che sceglierà prima, in base a quale croccandino prenderà prima, faremo quella cosa scritta. Esempio, cosa mangiamo a pranzo? Deciderà se mangeremo pasta o riso e poi in seguito come mangiare la pasta o il riso. Allora adesso ti devi svegliare Camillo perché ci devi aiutare con un video, ok? Dai, dormito tanto. Vediamo se ti convinco così. Chi è che vuole i biscottini? Chi vuole un biscottino? Ecco come svegliare Camillo. Seduto? Zampa? Che sei bravo. Dovrei mangiare la mano? Bravissimo. Uno qua. E uno. Sei pronto? Ok Camillo sei pronto? Pronti? Partenza via! Ok. Ok Camillo ha scelto la pasta, quindi partiamo con pasta. Adesso andremo ad aggiungere gli ingredienti. Abbiamo preparato due scelte tra pasta col tonno o con le zuccine, quindi andiamo a vedere cosa sceglie Camillo. Ora deve scegliere se mangeremo le zuccine oppure il tonno. Pronti? Vai Camillo! Vai! Ok. No, lascia stare il fuoco. Allora come avete visto Camillo ha scelto tonno, quindi adesso la cuoca andrà a preparare il nostro pranzo. Quando mangeremo pasta col tonno. Pasta pronta, acqua, il sughetto, è andata l'ora di mangiare, ci vediamo a pochissime. Vediamo il tonno direttamente al sughetto, il dolore. Non mi sembra troppo buono questo sughetto. Ma l'hai assaggiata mille e mille volte questo sughetto. Assaggiamo. Un cucchiaino. Prende. Un pochino, ecco sì. È sempre troppo buono. È buono? Può fare qualsiasi cosa, è sempre incredibile Dolly. Pasqua pronta. Pasqua pronta. Si va a mangiare. Bisiamo, lo mangiamo, buon pranzo, ci vediamo dopo. Vediamo cosa sceglierà Camillo per il nostro pomeriggio. Ok, abbiamo finito di mangiare e adesso Camillo dovrà decidere cosa faremo oggi pomeriggio. Se guarderemo un anime oppure un film. Ok, allora abbiamo messo le scelte, mettiamo il pochino qua. Un pochino qua. Ci proviamo. Camillo, sei pronta? Vai. Vai. Decidi per noi. Bravissima. No, è sempre a destra. È giocato. Camillo, non mi freghi, non puoi mangiare questo però. Sto riparando tutto, tutto, tutto. Ok, Camillo ha scelto il film, quindi non ci resta che scegliere il film e guardarlo, insomma. è il tempo che cerchiamo il film ci vorrà un po', il tempo che ci decidiamo soprattutto perché io non mi decido mai e vi lasciamo sapere subito. abbiamo scelto il film, stiamo guardando Animali Fantastici, il secondo perché Dolly non l'aveva ancora visto, quindi ci godiamo il film. direi che per il momento Camillo ci ha scelto abbastanza bene. Sta guardando anche lui, tra l'altro. E tra l'altro questa coperta ha un Camillo disegnato. E anche Camillo. E anche Camillo guarda la TV. Quindi a dopo. Ciao Stelline, il film è finito. Direi che l'esperimento è riuscito. È riuscito. Camillo è stato bravissimo. Camillo è stato bravo, ha collaborato benissimo con noi. Adesso non ci resta che è editare il video, vedere come è venuto e farvelo vedere. Io spero comunque che sia andato bene, anche se magari non sarà un video lunghissimo, però spero vi piaccia. Quindi se siete arrivati fino a questo punto e il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale. Fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e cosa vorreste vedere la prossima volta sempre seguendo questo stile oppure no. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ciao.